buongiorno buongiorno eccoci di nuovo qui dopo avervi mostrato la cascata la cascioera adesso mi trovo nella strada che porta in un altro luogo caratteristico di questa di questa regione vi ricordo ci troviamo a confine fra lo stato di san paolo e lo stato di mia gerais e mi sono fermato in una delle numerose piantagioni di caffè questo è un territorio noto per la coltivazione del caffè ed è una cosa particolarissima particolare è il fatto che per chi non lo sapesse il caffè adesso cercherò di dimostrarvi qualche chicco di caffè il caffè in questa in questa forma non sa di caffè fin quando non non viene lavorato quindi è stata anche una sorpresa per me di confesso ci vediamo a breve vi mostrerò un altro luogo caratteristico di questa regione siamo qui vicino a cassia che è una cittadina cassia che ha le origini cassia per noi è santa rita da cascia cassia e cascia seguitemi seguitemi e sarà una sorpresa anche per me quello che dimostrerò bacio